buongiorno sono luca savelli lavoro come ginecologo presso l'unità operativa di ginecologia e fisiopatologia della riproduzione umana del Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna. Ho pensato di rendere disponibili online una serie di relazioni sugli argomenti che riguardano la ecografia transvaginale in ginecologia perché quest'anno tra i piaceri che ci sono stati tolti c'è anche quello di incontrarci, scambiarci pareri, opinioni e aggiornarci. Il primo di questi argomenti riguarderà la valutazione ecografica della funzionalità ovarica e della riserva funzionale dell'ovaia. Vedremo in una prima fase come lo studio della morfologia e delle dimensioni dell'ovaia correlli con la funzionalità dell'ovaia e in una seconda fase i parametri ecografici da considerare per lo studio e la valutazione della riserva funzionale dell'ovaia. Bene, in un ciclo teorico di 28 giorni, nella prima metà del ciclo, nelle ovaia sono presenti diversi follicoli e circa dall'ottavo giorno è possibile identificare un follicolo dominante più grande degli altri che è quello che produce estradiolo e che cresce a una velocità di circa 2 mm al giorno fino ad arrivare a circa 20-25 mm di diametro medio in fase immediatamente preovulatoria. Avvenuta l'ovulazione il follicolo si trasforma in una ghiandola endocrina che si chiama corpo luteo, che produrrà progesterone e che ha dimensioni variabili. Se non è presente un accumulo di liquido al suo interno, il corpo luteo ha un aspetto ipoecogeno, ha una struttura molto vascolarizzata e ha un diametro di circa 2-3 cm. La presenza di un corpo luteo testimonia che l'ovulazione è avvenuta e che quell'ovaio produce una quota di progesterone normale che è superiore a 3 picogrammi per millilitro. Questi sono alcuni esempi di ovaia in fase follicolare. Come vedete i follicoli sono facilmente identificabili all'interno dell'ovaio come strutture anecogene con un orletto ben definito periferico privi di ecchi all'interno e di dimensioni variabili. La funzionalità delle ovaie è possibile valutarla anche studiando l'endometrio. La rima endometriale ha un aspetto trilaminare nella prima metà del ciclo e questo corrisponde alla presenza di un follicolo dominante. Avvenuta l'ovulazione l'endometrio da trilaminare diventa secretivo e assume un aspetto omogeneamente iperecogeno. Ovviamente se non va a buon fine l'ovulazione è possibile invece rilevare una serie di aspetti ecografici differenti. È possibile ad esempio vedere la presenza di ovaia piccoline, omogenee, cioè senza follicoli o comunque senza un follicolo dominante come in questi casi. Se qualcosa va storto è possibile ad esempio rilevare la presenza di una cisti follicolare come in questo caso, cioè una struttura che assomiglia a un follicolo ma a dimensioni maggiori di circa 3 cm il diametro medio. Può persistere per qualche settimana, massimo 1-2 mesi e può produrre estrogeni. La presenza di un corpo luteo, come vi dicevo, testimonia che l'ovulazione è avvenuta. Il corpo luteo si riconosce facilmente in mezzo al parinchimo ovarico perché è una struttura ipoecogena e molto vascolarizzata allo studio Doppler. Come in questo caso, vedete, ricorda la vascolarizzazione periferica, quella di un anello di fuoco attorno al corpo luteo. Qualche volta il corpo luteo può assumere un aspetto cistico per la presenza di sangue al suo interno. È detto il grande mimo perché possiede una variabilità di quadri ecografici molto ampia. Generalmente il sangue all'interno coagula e quindi è possibile anche vedere la presenza di una struttura ipoecogena, come in questo caso qui, che può ricordare, può assomigliare a qualche cosa di solido ma al cui interno il dopper non mostra flusso ematico. In ovaia che non ovulano è possibile vedere la presenza di molti follicoli all'interno, come ad esempio nella sindrome dell'ovaia micropolicistico, che vedremo successivamente in una relazione prossima, ma che è definita come la presenza di ovaia aumentate di volume sopra il novantesimo percentile, ad esempio per età, circa più di 10 millilitri, con un numero elevato di follicoli, più di 20, follicoli che sono fermi a stadi maturativi precoci, quindi di diametro medio compreso tra 2 e 9 millimetri, senza un follicolo dominante e senza un corpo luteo. È ancora dibattuta se la distribuzione sottocorticale dei follicoli sia un criterio ecografico necessario per far diagnosi di ovaia micropolicistico e se la presenza di uno stroma iperecogeno sia indispensabile, anche questa per definire quell'ovaio micropolicistico. Bene, per quanto riguarda la valutazione della riserva funzionale delle ovaia, è noto come in entrambe le ovaia il numero di ovociti declini si riduca progressivamente con l'età, e questo calo parte dall'età embrionaria, quando all'interno dell'utero della madre l'embrione femmina ha una riduzione progressiva durante i 9 mesi di vita fetale del numero di cellule primordiali germinali presente nelle due ovaia. Alla nascita si stima che mediamente nell'ovaia siano presenti circa 1, massimo 2 milioni di ovociti e che quando una donna giunge alla povertà questo numero sia di circa 300-500 mila. Quando una donna cerca mediamente la prima gravidanza, alle nostre altitudini circa 35 anni, il numero di ovociti disponibili per essere ovulati è di circa 25 mila. Quando una donna mediamente giunge alla menopausa si stima che siano presenti ancora nell'ovaia circa 1000 ovociti. Bene, ci si può chiedere a cosa giovi valutare la riserva funzionale dell'ovaia per mezzo dell'ecografia o di altre metodiche, ad esempio biochimiche. Sicuramente il primo scopo è quello di identificare le donne che hanno una bassa probabilità di risposta a una fecondazione assistita. Similmente identificare le donne che hanno un rischio di una risposta esagerata a una stimolazione ovarica. Probabilmente in alcuni subset di pazienti è importante anche valutare in base alla riserva funzionale quali siano le possibilità di concepire spontaneamente, ad esempio nelle donne che hanno più di 35 anni e che cercano una gravidanza da diversi mesi, oppure donne che sono state sottoposte a interventi chirurgici sulle ovaia, come ad esempio interventi chirurgici per l'asportazione di cisti endometriologiche. In alcune pazienti in cui si sospetti una disfunzionalità ovulatoria, come ad esempio nelle donne con ovaio microvolicistico, può essere utile valutare la presenza e il numero dei follicoli, come abbiamo visto, e così come nelle pazienti che hanno un rischio a priori di sviluppare una insufficienza ovarica primitiva. Si stima che circa una donna su mille a 30 anni vada incontro a menopausa prematura e una su 100 a 40 anni. Bene, il test di gnostico ideale per valutare la riserva funzionale ovarica dovrebbe essere un test non invasivo e un test di basso costo. Ovviamente un test che sia facilmente interpretabile e che sia riproducibile, cioè che fornisca gli stessi valori a diverse persone, che non abbia possibilmente variabilità tra un ciclo e l'altro, ecco, con minima variabilità interciclo e che sia in grado di definire quale sia la riserva funzionale dell'evaia ad ogni stadio della vita della donna. Infine un test ideale dovrebbe avere un'ottima accuratezza di gnostica, quindi che sia molto sensibile e molto specifico. Per mezzo dell'ecografia trasvaginale è possibile stimare la riserva funzionale dell'evaia in base a due parametri. Questi sono il calcolo del volume ovarico medio e il calcolo del numero totale dei follicoli presenti nelle due ovaia. In questa figura vedete come si inserisce la conta dei follicoli antrali in mezzo a due test biochimici molto utilizzati per la valutazione della riserva funzionale dell'evaia, che sono il dosaggio dell'ormone antimulleriano e il dosaggio dell'ormone follicolo stimolante. L'ormone antimulleriano riflette in qualche modo il numero di cellule germinali primordiali e il numero di follicoli antrali molto piccoli e piccoli, mentre la conta dei follicoli antrali ecografica stima il numero di follicoli presenti nelle ovaia di diametro medio di circa 2-10 mm. L'FSH invece riflette il numero di follicoli larghi, di follicoli antrali di dimensioni maggiori. Bene, è noto come ad ogni decade di vita il volume medio delle ovaia si riduca progressivamente, arrivando circa a 2 cm³ per ovaio. E' quindi possibile stimare in maniera indiretta quale sia la riserva funzionale delle ovaia calcolando il volume delle ovaia. Questo prevede di stimare in maniera indiretta il volume delle ovaia assimilandolo al volume di un elissoide prolato, quindi moltiplicando i tre diametri delle ovaia e dividendo il risultato per 2. Occorre ottenere la media delle due ovaia. E' una tecnica abbastanza facile e veloce, sia con l'ecografia bidimensionale che con l'ecografia tridimensionale. Adesso vedremo alcuni esempi. Con l'ecografia bidimensionale il modo più semplice è quello di dividere lo schermo in due porzioni e ottenere due scansioni esattamente ortogonali tra di loro in modo da poter calcolare i tre diametri e poi stimare il volume o manualmente oppure automaticamente con la maggior parte dei software disponibili negli ecografi moderni. L'ecografia tridimensionale consente di visualizzare contemporaneamente i tre piani dello spazio, quindi longitudinale, coronale e assiale e con certezza posizionare i tre diametri in maniera perpendicolare tra di loro, evitando quindi i limiti legati al movimento delle ovaia che invece possono accadere durante l'ecografia bidimensionale. Esistono dei problemi legati alla stima del volume delle ovaia. Intanto questi cambiano da un ciclo all'altro, la presenza di ad esempio un follicolo dominante o di un corpo luteo può alterare artificiosamente il volume delle ovaia, per cui da un ciclo all'altro esistono variazioni e fluttuazioni. È una metodica che richiede una certa abilità da parte dell'operatore e quindi operatore dipendente. Infine non esistono dei limiti dei cut off chiaramente determinati. È chiaro che più basso è il volume delle ovaia, minore la riserva funzionale di queste. E poi alcune pazienti sotto terapia con contrassettivi orali hanno ovviamente una riduzione del volume delle ovaia, dettata dal fatto che queste non ovulano da mesi, e non è chiaro come comportarsi quando sono presenti cisti all'interno delle ovaia. Occorrerebbe probabilmente calcolare il volume di tutto l'ovaio compreso la cisti, calcolare il volume della cisti e sottrarre quest'ultimo dal volume dell'ovaio. Capite che è in qualche modo difficile in queste condizioni stimare il volume del parenchiemo avarico. La racconta dei follicoli antrali è la somma del numero dei follicoli presenti in entrambe le ovaia, follicoli che devono avere diametro medio compreso tra 2 e 10 mm. È una metodica che ha dimostrato una buona affidabilità interosservatore e intraosservatore tra un ciclo e l'altro, ed ha dimostrato di essere fortemente predittivo delle donne a rischio di sviluppare un'iperstimolazione ovarica in corso di terapia farmacologica di induzione della ovulazione. Per contare il numero di follicoli antrali occorre ottenere una scansione dell'ovaio che permetta di visualizzarlo al centro dell'immagine e di ingrandirlo circa almeno al 50% dello schermo. Evitare una pressione della sonda vaginale per evitare che l'ovaio scivoli a destra o a sinistra, aggiustare il settaggio dell'ecografo e possibilmente utilizzare la seconda armonica che consente di visualizzare meglio i follicoli e poi contare in successione il numero dei follicoli che compaiono passando in scansione da un polo all'altro. Quando, se ci sono dei dubbi, è possibile ripetere la scansione più volte, come in questo caso, vedete, l'ovaio si identifica facilmente e passando da un polo questo all'altro è possibile contare il numero dei follicoli presenti nelle ovaie. Bene, questa tecnica semplice ha dei limiti quando il numero dei follicoli è molto alto come nelle ovaie micropolicistiche oppure quando le ovaie sono stimolate in corso di fecondazione assistita, come in questo caso. Può non essere facilissimo identificare i follicoli e contarli quando questi sono tanti e quando crescono, come in questo caso, uno all'interno degli altri. Non è sempre semplice distinguere i follicoli dalle piccole ciste ovariche che possono avere un contenuto identico a necogeno. L'ecografia tridimensionale ci viene in aiuto con una metodica computerizzata che consente di contare il numero dei follicoli, identificarli e attribuire a ogni follicolo un colore differente. Esistono dei software in mercato che consentono addirittura di calcolare il volume di ciascun follicolo, i tre diametri e il diametro medio. Queste metodi che hanno dei limiti perché identificano come follicoli ogni struttura anecogena all'interno dell'ovaio e quindi qualche volta un vaso ematico viene incluso dentro la scansione e può mimare, come in questo caso, un follicolo. Oppure due follicoli adiacenti a essere inclusi in una struttura unica, come in questo caso qui. Altri limiti sono dovuti al fatto che il software può non stimare esattamente i confini esterni del follicolo e non includere, come in questo caso, tutti i follicoli nel conteggio. Per cui occorre comunque una dose di soggettività per ridurre i limiti legati al conteggio automatico dei follicoli. È stato dimostrato come la conta dei follicoli antrali correli bene col numero di follicoli primordiali presenti nelle due ovaia. In questo lavoro gli autori hanno prelevato ovaia da 42 donne in età fertile che erano state sottoposte a nesectomia in corso di chirurgia per patologie benigne uterine. Le pazienti avevano eseguito, prima dell'intervento, un'ecografia trasvaginale con la conta dei follicoli antrali e un prelievo ematico per il dosaggio dell'estradio, dell'inibina, dell'FSH e dell'ormone AMH. Le ovaia sono state poi sottoposte a un procedimento sia fisico che enzimatico per liberare gli ovociti e i follicoli primordiali e il numero delle cellule uova è stato posto in scala logaritmica e correlato con i valori biochimici di estradiolo, inibina, FSH e AMH e la conta dei follicoli antrali eseguita con l'ecografia trasvaginale prima dell'intervento chirurgico. Come vedete in questo lavoro è stato dimostrato una correlazione lineare tra il conteggio dei follicoli antrali, vedete qua in fondo, e il numero di cellule di ovociti presenti nelle ovaia. Solo l'età e l'AMH correlava con il numero di ovociti presenti nelle ovaia, mentre il valore di FSH, l'inibina e l'estradio non mostrava una correlazione lineare. Bene, come interpretare la conta dei follicoli antrali nella valutazione della riserva funzionale delle ovaia? Si stima che un numero di follicoli antrali basso, quindi inferiore a 4, sia indicativo di una riserva funzionale molto ridotta. Tra 5 e 8 si intende una riserva funzionale ridotta, mentre una normale riserva funzionale ovarica è in genere rispecchiata da un numero di follicoli nelle ovaia di circa 9 fino a 19. Più di 20 follicoli indicano una alta riserva funzionale e un alto rischio di sviluppare un'impersimolazione ovarica quando la paziente viene sottoposta a terapia di induzione dell'ovulazione. In una meta-analisi di diversi studi in cui sono stati confrontati i valori di FSH delle pazienti con la conta dei follicoli antrali, è stato dimostrato come la conta dei follicoli antrali abbia una capacità predittiva positiva maggiore dell'FSH nella valutazione della risposta alla terapia con gonodotropine. Un valore di conta dei follicoli antrali basso e quindi una predizione di una bassa risposta alla stimolazione con la gonodotropine, sia quando il numero dei follicoli è inferiore a 5, massimo 7 follicoli antrali in entrambe le ovaia. Questo indica oltre a una bassa probabilità di risposta alla stimolazione ovarica anche una elevata probabilità di ingresso in menopausa nei 7 anni successivi all'ecografia. Gli svantaggi della conta dei follicoli antrali risiedono sostanzialmente in una certa dipendenza dalla tecnica utilizzata dall'operatore. Ovviamente dall'ecografo utilizzato alcuni ecografi consentono di visualizzare meglio follicoli di piccole dimensioni rispetto ad altri. Esiste comunque una certa variazione tra un operatore e l'altro e tra un centro e l'altro maggiore per la conta dei follicoli antrali rispetto a quello che si ha con metodiche automatizzate di ad esempio di calcolo del valore di AMH. Infine la necessità di un certo training di circa 20-40 esami prima di calcolare esattamente quale sia il conteggio dei follicoli antrali. Bene in conclusione l'ecografia trasvaginale è un esame imprescindibile in una paziente infertile che si sottoporrà a una tecnica di fecondazione assistita. C'è evidenza scientifica come con l'ecografia trasvaginale mediante l'acconto dei follicoli antrali sia possibile identificare pazienti a rischio di una bassa risposta ovarica che di una risposta ovarica esagerata alla terapia di induzione dell'ovulazione. In questo modo è possibile personalizzare sia la terapia medica che il counseling con la donna e con la coppia. Grazie. Grazie.